Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Inizia ufficialmente il corso dedicato ad Adobe After Effects So che molti di voi lo stavano aspettando, molti me lo hanno chiesto nei mesi scorsi E come promesso eccoci qui ad iniziare un nuovo corso dedicato a questo fantastico software Per creare motion graphics, effetti speciali e animazioni per le nostre creazioni multimediali Di cosa parlerà questo corso? Bene, diciamo subito che è un corso introduttivo After Effects è un software molto complesso con tantissime funzioni, molto versatile E impararlo tutto in un corso, ve lo dico subito, è impossibile Diffidate da chi vi dice che vi insegna After Effects dalla A alla Z in maniera completa In un corso anche di 15 ore, perché non è vero? Potete imparare ad utilizzare After Effects per quello che riguarda le sue funzioni base Potete iniziare a mettere mano, ma un corso di 15 ore di After Effects può darvi solo quello Ovvero un'infarinatura su come funziona, perché il software è veramente colossale E soprattutto le tecniche per creare motion graphics, effetti speciali e animazioni Sono talmente tante e talmente affidate alla creatività di chi lavora Che è impossibile fare un corso completo ed imparare a fare tutto Quello che però sicuramente potete fare con qualunque corso ed è quello che noi cercheremo di fare È avere un'idea di come funziona il software, avere gli strumenti per lavorarci Per capire, per vedere come ragiona questa applicazione Per poi creare voi stessi i vostri effetti speciali, i vostri titoli animati e le vostre animazioni Quindi, di che cosa parleremo in questo video corso introduttivo gratuito di After Effects? Sul mio sito internet www.fabioambrosi.it come sempre trovate l'indice del corso Trovate la pagina introduttiva al corso di After Effects Da base ad avanzato, ma come abbiamo detto avanzato per quello che riguarda le conoscenze basiche Mi raccomando, ricordiamolo sempre In fondo a questa pagina troverete l'indice degli argomenti che affronteremo in questo corso Quindi vedremo come è fatto un progetto, parleremo di come funziona l'interfaccia ovviamente Vedremo le composizioni, i livelli, alcune funzioni essenziali e base con cui lavorare Come la posizione, la rotazione, la scala e la trasparenza Vedremo il punto di ancoraggio Parleremo di come animare gli oggetti con i keyframe Parleremo di come inserire del testo ovviamente e modificarne le proprietà Parleremo di un elemento importantissimo in After Effects che sono le maschere Tutto si fa con le maschere, tutto quasi si fa con le maschere Vedremo come creare delle forme geometriche che possono esserci utili per tantissimi scopi Ma soprattutto faremo degli esercizi pratici Quindi creeremo dei sottopancia per le nostre creazioni multimediali, per i nostri video E vedremo come funziona l'integrazione tra Adobe After Effects ed Adobe Premiere Perché nelle ultime release questi due software comunicano sempre di più Parleremo ovviamente di come comunica After Effects anche con software come Photoshop Vedremo il rendering, parleremo chiaramente anche delle precomposizioni Vedremo che cosa sono un pochettino più avanti e vedremo alcuni effetti che è possibile trovare già così di default all'interno di After Effects Come dicevo l'esercizio è l'unico modo per imparare questo software Ma bando alle ciance, vediamo subito che cosa è possibile fare con After Effects Che cosa ci possiamo aspettare da questo software